c'è un po' ma i bacchi che sono? ehi perciò ehi in montagna ma sei la brucellosa la brucellosa che bella laura a voi ma che stai a chiedi l'occhio? la crappa che ha ancora aperto ehi e perciò perciò uno si sfida lì uno non ha fatto uno non ha fatto ehi 2 e domani domani voi dici ehi ciao 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 ok a o o o o o e o o o Salve casca!